Ciao, sono Michal Petras e sono fratello di Jakub. Abbiamo fatto una bella partita, bella prestazione da parte nostra. Mi dispiace per mio fratello che non ha giocato tantissimo durante questa gara, ma questo è sport. Uno si perde, uno si vince, ma sono molto contento per lui che sta anche in Italia per primo anno. E poi speriamo per fare bene anche in futuro. Secondo me, io gioco molto bene partita, 25 punti e dieci muri contro mio fratello. E sta scherzando? Per me è molto bene partita. No, no, è... What can I say? I didn't play, so yeah. So yeah, it's really hard for me to describe any feelings. I'm a little bit sad, but this is sport, as my brother said, questo sport, e... Yeah, I was hoping after six years, we last played together, that we're gonna measure our powers. Però, questo sport, and... Complimenti, molto complimenti comprata su tre punti. Bellissima partita, bellissima performance per mio fratello. Come dice lui, abbiamo giocato una partita la prima, insieme, io ho vinto 3-0. Oggi è seconda partita che giochiamo contro e si è vinto un'altra volta 3-0. Mi dispiace per lui, però, come dico prima, questo è sport, uno si perde, uno si vince. Grazie Brescia per questa opportunità da giocare qua, in questo grande palazzetto, con questi grandi tifosi. Ci sentiamo presto. Grazie Brescia, ci vediamo prossima domenica. Eh sì, grazie. Grazie a tutti. Grazie, ciao.